La cosa che mi stupisce ogni qual volta e mia moglie ci permettiamo di esprimere un nostro libero pensiero da cittadini su quello che avviene nel nostro paese è assistere a questa distesa di giornalisti intellettuali, politici, che per darci degli stupidi ignoranti non fanno altro che mettere sullo stesso livello il pensiero di Chiara Ferragni e il pensiero della politica italiana. Non cogliendo la differenza tra queste due cose, perché Matteo Renzi è un politico pagato dagli italiani per rappresentarli. Chiara Ferragni non grava sulle tasche degli italiani, è un'imprenditrice che esprime il suo pensiero e si può permettere anche di esprimere un pensiero banale. La cosa che invece fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere un politico come Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni. Questa è la cosa triste della politica italiana. Comunque, di cosa parleremo questa sera alle 18.30? Beh, innanzitutto, Matteo Renzi ci tiene davvero al DDL Zan o è il paraculo che ha sempre dimostrato di essere in questi anni di politica italiana? E poi, il voto segreto sul DDL Zan è davvero necessario? Perché io, mente semplice, stupida e ignorante da cittadino, vorrei sapere che cosa votano i senatori che rappresentano i cittadini italiani per valutare il loro operato. Perché secretare il loro voto e poi successivamente comprendere quale potrà essere il futuro dei diritti delle persone in questo paese. A questa sera. Ciao amici.